In vista della commemorazione dei defunti, come ogni anno il Comune Editore del Greco ha provveduto al nuovo temporaneo dispositivo per regolamentare la viabilità in zona, per far fronte al notevole flusso veicolare e pedonale che si registra come di consueto nel Ponte di Ogni Santi. Firmata in queste ore l'ordinanza dal dirigente Salvatore Visone, al fine di consentire l'afflusso in sicurezza nelle strade interessate. In particolare per via San Giuseppe alle Paludi e per via del Cimitero, da via nazionale all'ingresso del Cimitero, istituito il divieto di sosta con rimorzione forzata e di circolazione veicolare dal 29 ottobre al 2 novembre dalle 7 alle 17. In deroga quanto previsto da tale dispositivo è consentito il transito dei veicoli in uso ai residenti e alle persone diversamente abili esclusivamente nella fascia oraria dalle 14 alle 15. È consentito inoltre il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai mezzi delle forze di polizia e a quelli muniti di speciale autorizzazione. Per il tempo in cui sarà in vigore tale ordinanza, sono sospesi tutti gli stali di qualsiasi tipologia istituiti per la sosta di autoveicoli e motoveicoli.